quattro macchinine colorate guardate ecco una macchinina gialla una e il numero uno ecco due macchinine che spingono un cubo rosso con il numero due uno e due uno e due oh ancora più macchinine spingono un cubo verde con sopra il numero tre uno due tre quattro macchinine vedete il cubo blu con il numero sopra quattro andiamo macchinine colorate portate il numero quattro al suo posto giallo rosso verde blu andiamo macchinine colorate tutte sui cubi tutte sui cubi uno due tre e e quattro wow ciao macchinine colorate tornate presto ciao macchinine colorate presentano sono sette macchinine di tutti i colori dell'arcobaleno sette i colori delle macchinine è facile impararli insieme c'è un grande camion rosso ma che rumore fa la macchina arancione chissà dove va la macchinina gialla le ruote nuove ha ma sulla macchinina azzurra nessuno mai salire vuol son sette macchinine di tutti i colori dell'arcobaleno insieme le vedremo correre veloci andar di qua e di là la macchinina verde è rotta e non va più il grande camion blu cammina su e giù la macchinina viola sfreccia avanti al blu ma sulla macchinina azzurra nessuno mai salire vuol non non Grazie per la visione!